Due minuti per rispondere alle vostre domande, oggi rispondo ad Alessandra che mi chiede come arredare questo ingresso e prima cosa ritieni di già fortunata Alessandra perché al giorno d'oggi trovare un ingresso tra l'altro così spazioso è qualcosa di raro perché effettivamente i nuovi appartamenti tendono ad avere l'ingresso direttamente nel soggiorno e a complicare un po' il tutto. L'unico difetto di questo ingresso è che ovviamente è molto attrezzato a livello impiantistico ed è questo che ti rende il tutto un pochino disomogeneo. Mi piace moltissimo il colore che hai scelto per questo imbotte e quindi io ti consiglio di farti realizzare un mobile a misura e poi di appunto farlo tinteggiare della stessa tonalità che hai scelto per l'imbotte così avrai qualcosa che sembra fatto apposta su misura per quello spazio e è quello che fa la differenza per avere qualcosa di più raffinato. Che tipologia di mobile ti può servire? Io sceglierei un mobile che fosse un mix di una parte a giorno dove posizionare l'appenderia dove magari mettere delle mensole sulle quali poter posizionare degli svuotatasche comodi in un ingresso per mettere e togliere le chiavi e altri oggetti così pratici e più una parte chiusa soprattutto nella zona dove c'è il pannello di spezione dell'impianto. Penso che sia un pannello diciamo di quelli di manutenzione dell'impianto di riscaldamento a pavimento. Ad ogni modo quello sportello bianco è un po' cacofonico nell'insieme e invece mascherandolo ma mantenendolo mantenendo la possibilità di poterlo aprire questo ti risolve il tutto. Come? Colorandolo psicologicamente come il resto dell'imbotte così è mimetico, non si vede ma c'è ed è comunque funzionale. Il tempo sta scadendo spero di essermi spiegata correttamente e niente ci vediamo al prossimo